Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati su Earth of Iron 4 con la mod Kaiserreich Italia Papale Qui parla mai dire ragazzi E devo dirvi la verità, questa serie mi sta piacendo un sacco Mi piace proprio personalmente questa mod E' fantastico anche il modo in cui sta andando a parare la campagna Perché è completamente diverso da tutte le partite mai fatte Allora in questo momento ragazzi ho spostato le truppe che si trovavano di Badoglio Che si trovavano qui nello schieramento con la Germania Socialista Perché per il momento non siamo ancora forti per abbattere i comunisti Ed inoltre loro sono ancora impegnati nelle guerre E quindi per il momento non rappresentano una minaccia Lo spostate sul fronte albanese In quanto l'Albania non fa parte del patto di Belgrado E quindi potrebbe essere facilmente soggiogabile dal Papa E quindi il Papa ha deciso così Ha deciso che l'Albania deve tornare Che sapete essere a maggioranza musulmana Deve tornare appunto in seno alla Chiesa Cattolica Nello scorso episodio ragazzi abbiamo ottenuto una vittoria mutilata Appunto contro gli Ottomani Abbiamo preso solo dei tratti la provincia di Smirne e Costantinopoli Quindi comunque abbiamo preso la parte più importante della Turchia Ma non tutta E soprattutto ragazzi ci hanno preso Benghazi Io li avrei lasciati stare se ci avessero lasciato questa provincia Invece però non ce l'hanno lasciata E quindi adesso sto giustificando la guerra E sarà pronta nel fine dicembre ragazzi Quindi tra qualche mesetto Mentre quella albanese a febbraio Allora ragazzi Dato che qui ho già predisposto un po' tutto Ho lasciato il confine Solo questo occidentale Coperto dalle truppe di Cavallero Alpi occidentali pontifice Non le ho spostate queste truppe Perché sono alpini E qui nel deserto non conviene utilizzarli E sto truppando il più possibile ragazzi Perché ne abbiamo la possibilità Guardate siamo tutto in positivo Abbiamo un sacco di riserve E quindi il nostro obiettivo è aumentare E incrementare il nostro esercito Il più possibile Il più possibile Qui il fronte albanese è già pronto Ho messo degli alpini qui Effettivamente in questa zona Perché è montagnoso Poi ragazzi valuteremo se fare una guerra Al patto di Belgrado Oppure cominciare a pensare A combattere i comunisti Vediamo Per il momento dobbiamo affrontare L'asse Axis Che è formato praticamente Dalla Turchia Che è un fattoccio persiano Dall'Arabia E dall'Egitto Tanto l'impero russo Ha dichiarato guerra alla Finlandia Un po' storicamente diciamo Avvenuto così in effetti Allora queste truppe Carri medi Le mandiamo qui Ok carri medi Possono sempre servire Fanteria Anche Oh cavoli Quindi adesso anche Quindi la parte fascista americana È stata sconfitta Dovremmo mandare dei volontari Vediamo se possiamo mandarli Ah non possiamo No questi sono i messicani È vero Hanno sconfitto gli statunitensi Cosa rimane qui? No cazzo I comunisti messicani Si sono spartiti L'America Di democratico Social conservatore Rimane solamente Gli stati pacifici Che a me piacerebbe Mandare Dei volontari Ma dice che la mia fazione Non può La mia azione Non può mandarli Poi vediamo se C'è qualche focus Interessante Che me lo impedisca Allora Vediamo Qui carri leggeri Tra poco facciamo Lo sviluppo L8 Quindi per il momento Potenziamo gli aerei Che siamo sotto Di forza aerea Ok Qui abbiamo altre divisioni Di fanteria Che mandiamo Qui Che appunto Abbiamo attrito Doviamo un po' Rafforzare Questa base navale Ragazzi Perché Quell'attrito Non mi piace Adesso Lo rinforziamo Lo mettiamo Almeno a 4 E rinforziamo Un po' Magari Qui anche A Deala Algeila Servirebbe Un porto Per rinforzare Le truppe In questa zona Lo mettiamo Almeno a livello 5 Anche questo Tanto non ci dovrebbe Volere molto Abbiamo perso Un po' Di fabbriche civili Ragazzi Perché stiamo Importando Un sacco Di materiale Ma Vedremo Che riusciremo In qualche modo A riprendercele Con le guerre future Queste fabbriche civili Stiamo importando Un sacco di materiale Ragazzi Perché ci servono In effetti Qui continuiamo A rafforzare Gli alpini Di cavallero Va bene Dai ragazzi Aspettiamo Fino a dicembre Non dovrebbe succedere Nulla Quindi un bel Taglio Devastante Ragazzi Purtroppo Ho dovuto Aspettare Fino al 28 Marzo Del 42 Perché Il mio potere Politico Era andato In negativo E quindi Ho perso Un bel po' Di giorni E Adesso Possiamo Finalmente Entrare In guerra Contro Il sultanato D'Egitto Quindi Contro Questa Fazione Che si chiama Asse Sarà una guerra Molto molto Difficile Perché partiamo Un'inferiorità Numerica Ma se ce la giochiamo Bene Possiamo anche Pensare di farcela Al massimo Avremo Dei rinforzi Qui in Albania Di Badoglio Però Al momento Non posso garantire Alle divisioni Impegnate in Turchia E in Egitto Dei rinforzi Quindi Che ce la facciano Da soli Allora Entriamo Ok Siamo in guerra Contro il sultanato D'Egitto Vediamo se Entrano anche Gli altri Mettiamo Velocità 1 Ok La perse E tutto Ok Quindi sono entrati Possiamo Far partire Questi attacchi No No Ho sbagliato Non questi Quelli In Turchia Mentre qui Oh Cazzo Non siamo Ben organizzati In questa zona In Libia Che non convenga Ritirarsi Per il momento Teniamo le posizioni E vediamo Vediamo come va Allora Possiamo attaccare Queste Possiamo attaccare Qui E le altre divisioni Le andremo a salvare In seguito Al massimo Ci si ritira A lungo Posizioni Più difendibili Quindi Qui Al momento Ci si ritira E amen Anche se ci restringono Un attimo Dobbiamo puntare Sulle altre Divisioni Teniamo il porto Ragazzi Ma che vada Ci ritiriamo Non è un gran problema Abbiamo la superiorità Aerea Piuttosto Schiacciante Allora Mandiamo qui Delle divisioni A protezione Ok 10 9 8 Ok Sono arrivate Ci stiamo difendendo Adesso arriva pure Questa fanteria Questa ci ritiriamo Lungo questo aeroporto Attenzione qui Non rischiamo il pocket Attacchiamo E via via Ci ritiriamo Ok Si stanno ritirando Anche quelle divisioni Ok Qui rischiamo il pocket Ragazzi Ma Non permettiamoglielo Stanno arrivando Questi battaglioni Corazzati Vediamo un attimo Di Di bloccare Quelle divisioni Spero di non giocare Di non essermi La giocata male L'entrata in guerra Però Non posso aspettare Ok 35 Bene Ci stiamo difendendo Li Reggiamo Penso che dovremo Ritirarci lungo La zona del porto Quindi magari Ecco cosa facciamo Diminuiamo un po' La lunghezza Del fronte Mettiamoci lungo Tobruk E difendiamoci In loco Allora Mentre in questa zona Direi che la Turchia La dovremmo Devastare Piuttosto facilmente Queste le continuiamo a unire A questo attacco A questo attacco Andate avanti Le altre divisioni Invece Andranno a conquistare Ok Vanno a procedere a Ok dobbiamo circondare Queste 6 divisioni Se vediamo che si spostano Contrattacchiamo Ora si stanno Riorganizzando Quindi Spettiamo solo un attimo Allora Le divisioni Non ne abbiamo Perse Ci stiamo solamente Ritirando In maniera Anche piuttosto Organizzata Quindi Allora Quest'attacco Possiamo cancellarlo Che non serve più a niente Ok Lì stanno arrivando I rinforzi Allora Spostiamo Queste Attacchiamo Qui stiamo per circondarli Quindi Circonderemo 6 divisioni Egiziane Ok L'abbiamo fatto Perfetto Attacchiamo anche con questa E distruggiamo 6 divisioni egiziane E a questo In questa fase della guerra Sono Cruciali Allora Possiamo mandare Dei rinforzi Qui Ok Basta che proteggiamo Tobruk Ragazzi E ce la dobbiamo fare Forse possiamo inviare Dei rinforzi Ma al momento Ancora no Vorrei conquistare Intanto è entrato Anche il Kurdistan Sul trato Dell'Oma Minchia Siamo Siamo messi bene Con tutte ste guerre Allora Qui Dobbiamo riorganizzare Un attimo L'attacco di Soddu Siamo 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 vorrei che queste divisioni andassero oltre vediamo e se lunga ogni volta porca puttana adesso adesso la tolgo la linea del fronte cancelliamo tutti gli ordini perché allora io ho detto che voi dovete proteggere questa zona e basta ok mai dire contro la linea del fronte perché più che altro il fronte poi si allunga pure qui in africa dove c'è la turchia è capitolata e qui il fronte si è allungato un'altra volta porca di quella puttana facciamo così dato che questo simpaticone di cavallero ha deciso di fare di testa sua facciamo la linea di failback e basta così almeno le truppe sappiamo che si posizionano lì e decido io come attaccare voglio che arriviamo a bengasi perché queste divisioni dobbiamo soccorrerle che non si possono muovere allora la turchia abbiamo detto essere capitolata giusto non ho potuto neanche festeggiare molto perché allora messe si occuperà ad andare a conquistare il kurdistan quindi le 19 divisioni di messe andranno qui mentre soddu per favore cancella questo fronte che non ci serve il fronte di soddu deve essere il seguente ok meno male che è finita quella canzone che era molto scadente e ok selezioniamo tutte le divisioni come al solito abbiamo ripianificato un po' l'avanzata queste divisioni però magari andate a conquistare questa che non voglio buchi poi anche messe ordiniamogli un attacco direi che un'offensiva di questo tipo potrebbe essere l'ideale per la vittoria ci sono delle divisioni pure qui vabbè la turchia è capitolata molto velocemente le truppe papali sono forti ok allora allunghiamo un po' vorrei avere tanto la mia linea del fronte ma purtroppo il gioco ha deciso che non vuole la linea del fronte vedete ci sono sei divisioni qui che non stanno combattendo perché non posso ok teniamolo così e speriamo che non si allunghi nuovamente il fronte questa facciamola procedere oltre che sta andando bene l'avanzata procede bene lì ci sono 13 divisioni noi abbiamo uno strapotere tecnologico interessante oserei dire un po' la forza aerea tra l'altro questa che è qui la possiamo spostare in questa zona in modo tale che controlli bene questa situazione ok le navi stanno pattugliando non hanno incontrato nessun attacco abbiamo tre fabbriche in più vorrei aumentare il support equipment vediamo cosa ci manca acciaio lo importiamo la repubblica francese del regno di ungheria no vediamo qualcuno che non sia impegnato in nessuna deriva ideologica strana ok lì l'abbiamo respinti quelle truppe si stanno riorganizzando ah perdo 40 di potere politico e non mi sembra proprio il caso quindi facciamo aumentare sto populismo ok allora qui come sta andando ok così dovrebbe andare così il fronte si riunisce in questa zona e siamo a posto poi soddu allora abbiamo capito che il fronte si è un po' sminchiato fa tutto quello che che vuole senza dar ragione a nessuno ok siamo in territorio arabico è un bene quella truppa non si è riorganizzata allora mettiamo velocità 3 perché mi sembra che per il momento la battaglia stia proseguendo abbastanza bene ok continuiamo a penetrare in egitto vorrei che questa andasse fino a qui quindi tentando per l'appunto di procedere a circondarle vedete le nostre divisioni di carri sono molto potenti qui ci sono 11 divisioni che conviene subito impegnarle in un attacco e tra l'altro abbiamo devastato subito con la nostra massiccia offensiva allora queste truppe magari una divisione può tornare a unirsi lì così avremo finalmente rifornimenti quattro divisioni possono impegnare queste con anche un battaglione di carri loro mi sa che non hanno anti carri ragazzi e quindi praticamente qui stiamo circondando l'esercito egiziano procediamo la nostra tattica è enormemente superiore alla loro bene pocket gigantesco delle truppe egiziane quindi adesso stanno cercando un attimo di riorganizzarsi ma noi dobbiamo impedirglielo ok queste dovrebbero attaccare in questa zona caricone generale ok ok sembra che sia totalmente crollato abbiamo conquistato anche bagdad la frontiera è completamente crollata fatto in un'aggressione con l'unione baltica va bene e diciamo che abbiamo fatto risuonare bene in europa la nostra potenza la potenza papale con questa guerra perché adesso rappresentiamo effettivamente una minaccia per i comunisti allora anche se i fronti si sono uniti è poco male ragazzi vediamo se avremo dei problemi adesso non mi sembra finché va tutto bene ragazzi non mi faccio problemi poi tra l'altro qui con la francia repubblicana a noi interessa la tunisia ma non voglio levarmi di come alleati perché ci serve tutto l'aiuto possibile contro il comunismo vediamo se loro tra l'altro sono in guerra con qualcuno sono in guerra con la germania porca miseria che stupidità bene è il momento di dichiarare guerra all'albania ok dov'è badoglio albania eccola tra l'altro loro si sono organizzati quindi attenzione a sfondare così allora lì possiamo prendere la nostra marina che tra l'altro non so dove sia eccola e digli di pattugliare pure l'adriatico in modo tale che possiamo mandare i nostri marine a tirana l'invasione era già pronta da un bel po' allora qui possiamo sfondare facilmente vediamo le zone di vulnerabilità proviamo in questo modo ok tutto verde positivo i marine sono partiti vediamo se arriveranno a tirana se la conquistiamo subito a noi va bene qui si stanno difendendo per questo ragazzi ok abbiamo già conquistato tirana bene ok è finita sarebbe durata molto di più ragazzi ma si sono fatti fottere da un'invasione navale mi dispiace per gli albanesi ragazzi è stata forse la campagna più veloce della storia di Herz of Iron molto probabilmente quindi vassallo ok abbiamo vinto ragazzi bene 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 perfetto perfetto ci è andato bene ci è andato bene allora direi che la Turchia la conquistiamo perché deve essere nostra il Kurdistan l'Arabia boh la costa me la prendo ragazzi mentre il resto lo lo vassalizziamo perché in realtà non è che ci serva proprio diciamo che i russi ci hanno un po' preso Teheran e qui hanno fatto questa questa roba più che altro mi interessava per avere un punto d'appoggio in Abissilia e questo non mi è piaciuto non mi è piaciuto per niente vediamo se mi esce qualcosa che mi dice puoi liberare no non mi è uscito niente ok il gioco se ne sbatte delle mie conquiste questa cosa non mi è piaciuta non mi è tanto piaciuta della Kaiserreich perché non ho potuto vassalizzare nessuno e tra l'altro qui hanno vassalizzato forse l'Italia non può avere Puppet perché è una bella domanda è una bella domanda ok l'impero russo ha dichiarato guerra all'impero tedesco ma perché ci serve contro i comunisti ma che stupidi i russi tra l'altro penso che entreremo in fazione con loro la creiamo ragazzi vedete qui possiamo crearla però mi dice che non ho lo spirito adatto per farlo ma vedremo ragazzi vedremo per il momento siamo a posto siamo potentissimi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti da mai dire al prossimo video dal papa mai dire ciao a tutti